Tra i nuovi modelli che Etrusco ha introdotto su Ford Transit c'è il 600DF, un campervan che nonostante la sua compattezza e lungo appena 5,98 m, riesce a garantire viaggi comodi e confortevoli. Il 600DF amplia la gamma dei campervan Etrusco ed è il primo a scegliere la meccanica Ford Transit. In meno di 6 metri offre tutto il necessario a garantire un viaggio nel pieno comfort e sicurezza a due persone. Gli interni luminosi e moderni creano un ambiente particolarmente accogliente e funzionale. È un layout classico che però ben si sposa con le caratteristiche del furgone Ford a partire dall'altezza interna che offre un'ampia ariosità ma anche un'alta vivibilità. Nella parte posteriore del veicolo troviamo il letto trasversale servito da tre finestre e oblò. Ha una rete a doghe e la possibilità di essere smontato per creare maggiore spazio di stivaggio. E questo rappresenta ovviamente un vantaggio per chi prevede un utilizzo multifunzionale del veicolo. Nella zona centrale troviamo una cucina con lavello separato, un fornello a due fuochi e anche un frigo a compressore, apribile su entrambi i lati. Nella parte anteriore della cucina invece troviamo una penisola ergonomica che conduce nella zona centrale del veicolo senza spigoli a vista. Anche in un veicolo così compatto lo sfruttamento intelligente degli spazi ha permesso di creare un bagno che offre tutto il comfort necessario e in cui è possibile anche ottenere un box doccia che è adatto dalla separazione con la classica tenda. Per la reazione abbiamo invece un oblò e una finestra. Una nuova porta scorrevole e pieghevole offre ancora più spazio nella zona bagno e aumenta lo spazio di movimento. La zona cucina è stata adattata al nuovo telaio, per esempio il lavello e il frigorifero sono in una nuova posizione. È inoltre adatto anche alle famiglie grazie al doppio sistema Isofix per i seggiolini per bambini che hai di serie. Un altro punto forte del modello Ford è lo standard dei finestrini a filo, oltre ad avere nuovi vani e portaoggetti sopra le porte laterali che hanno aumentato il volume di stivaggio complessivo. Nella parte anteriore del veicolo troviamo una zona giorno ben integrata con la cabina guida. I posti offerti sono quattro, sia a sedere sia a fronte marcia e grazie all'altezza del veicolo è possibile arrivare ai posti anteriori senza doversi chinare. In questo nuovo modello ritroviamo il pacchetto Complete Selection di Trusco. Il veicolo include cerchi in alluminio da 16, un pacchetto multimediale, inoltre un faretto opzionale sopra la porta posteriore crea illuminazione perfetta di sera. È disponibile in tre colorazioni esterne differenti ed è disponibile anche nella versione Complete Selection super equipaggiata. A rendere ancora più accogliente l'atmosfera interna la gradevole illuminazione a LED. Dal design fresco e un cambio manuale a sei velocità, il Ford Transit assicura un'esperienza di guida molto comoda creando un ottimo livello di sicurezza e comfort. Sul veicolo è possibile avere la motorizzazione 130 o 170 cavalli disponibile anche con cambio automatico. Etrusco 600DF è il campervan dal comfort elevato e dalla libertà di muoversi senza confini.